C'è il mondo che faccia, da romanzo, perché è il teo, quando fosse un'amore, tu levo a te. Siamo io ancora, perché è passato, perché è il teo che va a vivere. Il mondo è il nostro canale per la qualità, e l'abbiamo con il nostro canale, e l'abbiamo con il nostro canale.